C'è scritto Fitbit, ma da un annetto a questa parte fa parte appunto della famiglia Google. E' questo il Sense 2, il top di gamma, quello più avanzato della serie degli smartwatch attualmente nella gamma Fitbit. Lo sto provando da una settimanella e se siete interessati a uno smartwatch da look veramente molto elegante, ma dalle infinite funzioni sportive e soprattutto da una batteria ben sopra la media, allora mettetevi comodi che questo smartwatch e anche questo video potrebbe fare proprio al caso vostro. Ma prima di andare avanti chiedo all'80% di voi che guardate i miei video e che di fatto non siete iscritti al canale di fermarvi un attimo e di iscrivervi al canale. A voi non costa assolutamente nulla, ma per me e la nostra community è importantissimo. Soprattutto se i contenuti come questi e che porto sono di vostro gradimento. Mi raccomando fatelo, non vi costa nulla e un secondo, campanellina, iscrizione, soprattutto a buon rendere. Questo Fitbit Sense 2 è ricco di un sacco di funzioni utili e soprattutto interessanti. Ma prima diciamo diamo un'occhiata a quella che è la parte estetica e già possiamo notare un design decisamente particolare e diverso da tanti altri smartwatch. Onestamente io lo trovo molto elegante, è sempre molto discreto, nonostante poi alla fine abbia tante tante funzioni anche per i super sportivi. I materiali costruttivi sono da top di gamma, infatti già indossato si può apprezzare questa cassa in acciaio inossidabile. È un display sempre molto luminoso e soprattutto protetto dal Gorilla Glass 3. Esistono vari colori, ma devo dire che questo che indosso in questo momento a mio avviso è quello più bello, anche più discreto. È possibile cambiare i cinturini, ho scoperto che sia sul sito di Fitbit ma anche su Amazon c'è una scelta infinita. Si va dai classici in silicone ma anche in altri materiali fighissimi. Vi lascio tutto quanto e tutti i link in descrizione con quelli che mi sono piaciuti di più. Nella parte inferiore della cassa troviamo il sensore di frequenza cardiaca. Sul lato sinistro c'è l'unico pulsante tattile dalla quale possiamo attivare e disattivare tutte le varie funzioni che vedremo tra un po'. Tornando al display abbiamo uno schermo AMOLED di circa 1.59 pollici. I colori sono sempre accesi anche sotto condizioni di forte luce, anche sotto un sole. Si vede sempre bene. Questo Fitbit Sense 2 è veramente semplicissimo da controllare e devo dire che pur avendo veramente tantissime funzioni basta veramente aggeggiare pochissimo, un secondo, con gli swipe per capire appunto come funziona. E da quel momento in poi è semplicissimo trovare tutto quello che serve, a differenza magari di qualche altro smartwatch. Uno swipe dall'alto verso il basso e si aprirà il menu di controllo dalla quale potremo attivare tutte le funzioni quali di non disturbare, attivare la modalità notte, il display sempre acceso, regolare anche la luminosità del display e accedere anche a delle impostazioni, al menu delle impostazioni che sono semplici e facilissime da intuire e gestire. Infatti non sto a spiegarvele tutte ed è proprio la semplicità il suo vero forte. Infatti avendo veramente tutto ciò che troviamo in altri blasonati smartwatch del mercato, e questa è proprio la testimonianza che lui è un vero top di gamma, possiamo attivare tutto senza perderci appunto nei meandri di menu, sotto menu, devo dire in pieno stile Google Style. Notifiche, monitoraggio del battito cardiaco, monitoraggio dei passi e tutta l'analisi sul movimento e l'attività giornaliera che facciamo, lui la raccoglie e la mette nella nostra app. Ma abbiamo anche sensori molto evoluti come l'EDA, l'EDA scan, che in base a uno scan elettrodermico e che fa sulla sudorazione della pelle, lui misura appunto il nostro stato di stress e ci consiglia dei programmi che vi posso dire sono molto molto efficaci. Infatti li ho provati e mi sono piaciuti, però soprattutto per ridurre le situazioni di stress. Adesso copri lo schermo dello smartwatch con il palmo della mano, avendo cura di toccare anche la ghiera in metallo. Ci concentreremo sulla nostra respirazione, ci aiuta a trovare equilibrio, a liberarci dallo stress. Abbiamo anche la possibilità di monitorare il sonno e la percentuale di ossigenazione del sangue, appunto durante le fasi del sonno. E sempre durante il sonno lui rileva e misura anche la temperatura della pelle e memorizza tutte quelle metriche che poi mette sull'app di Fitbit, appunto sul nostro smartphone. E questo è molto interessante perché spesso la temperatura della pelle è veramente un buon indicatore se qualcuno ad esempio ha la febbre o si sente male e quindi non misura la temperatura, però ci dà delle buone indicazioni. Smartwatch elegante sì, ma se parliamo di sport lui veramente sfodera tutta la sua, tutta la competenza maturata da Fitbit in questi anni. Infatti oltre a rilevare l'allenamento e registrare la performance, lui fa tutta un'analisi molto molto accurata inserendo anche le classiche fasi di zona attiva. Questa è una cosa che si trova su smartwatch importanti. Insomma queste cose onestamente sono abituate a vederle su robe molto sportive. Chiaramente non mancano gli allenamenti per la tipologia di sport e ce ne sono un'infinità e io solitamente faccio fare a lui, a parte non mi alleno tanto. E se vogliamo possiamo rispondere anche alle chiamate, ma vi dico subito che l'altoparlante, diciamo a che posto qui, non è proprio fortissimo, ma sicuramente può essere veramente utile. Come ad esempio nel mio caso se avete delle cuffiette collegate, io le ho collegate con le Buds Pro di Google e in automatico possiamo tappare, perché magari andiamo sullo skate qua o il cappellino mi viene male, allora tappo, prendo la chiamata direttamente dallo smartwatch. E infatti diciamo che è molto più facile prendere da qui che non qua, comunque sì. Con l'aggiornamento è arrivato anche l'assistente Google, ma possiamo anche comandare Alexa direttamente da lui, diciamo a Savoce, perché chiaramente essendo Google possiamo rispondere ai messaggi, ad esempio Whatsapp o altri tipi di messaggi utilizzando la funzione di sintesi vocale, funziona molto bene, basterà veramente tappare sull'iconcina del microfono e dettare il messaggio, inviarlo e pensare a lui proprio a trascriverlo per noi. Qua subentra un po' l'intelligenza artificiale di Google, la roba che vi ho fatto vedere sui Pixel. Non mancano le personalizzazioni del display e io ne ho impostate tantissime, fatemi sapere sotto nei commenti se vi piacciono. Lui registra tutto e tutto può essere analizzato nei minimi particolari passando appunto dall'app di Fitbit che io ho installato inizialmente sul Pixel 7, trovate il video, poi adesso sul Pixel 7 Pro che mi è arrivato da giorni che sto utilizzando arriverà lo sfidozzo e che comunque ci sono già dei video fatti anche sul Pixel 7 Pro. Io vi lascio tutto quanto qui così potete andarvele a vedere. Ed ecco appunto se sullo smartwatch è tutto semplice e assolutamente a portata, sullo smartphone e quindi sull'app è un pizzichino più complesso, proprio data la molle di informazioni e soprattutto i consigli che vengono fuori. Diciamo che questo non è male, soprattutto per chi di voi è spippolone, super sportivo, cioè sono veramente una serie di chicche, di robe infinite. L'ultima caratteristica, ma decisamente la più importante per quanto mi riguarda e penso per molti di voi, è la durata della batteria. E finalmente abbiamo uno smartwatch con bei colori, tante future che dura veramente tanto. Io ho fatto sette giorni pieni, ve l'ho fatto vedere con le storie e a proposito seguitemi anche su Instagram e su TikTok, mi raccomando. Sette giorni pieni, utilizzandolo al massimo ed è secondo me perfetto perché è così la domenica, che magari sono un attimo più rilassato mentre faccio la doccia e lo metto in carica, lui si ricarica in una buona oretta e noi possiamo rifare tutta la settimana senza starci a sbattere, senza stare a pensare, senza stare a avere problemi. Una settimana, veramente toh. Allora, che dire, onestamente io non vedo dei lati negativi, forse sulle app o qualcosina, ma penso che con Google arriveranno. Lui ha un bel design, è costruito molto molto bene, i materiali sono assolutamente premium e ha tutte le funzioni che ci sono sui top di gamma. La batteria dura molto ma molto di più dei competitor diretti e soprattutto si porta dietro tutta la competenza di Fitbit acquisita appunto da anni e da un po' anche, da un po' di tempo, ha anche la potenza e l'intelligenza artificiale di Google. Lui chiaramente funziona sia sui dispositivi Android che su iOS e lo consiglio a chi cerca uno smartwatch diverso appunto dai classici Apple Watch o Galaxy Watch. Magari se avete uno smartphone di altri brand, lui secondo me è una soluzione azzeccatissima, soprattutto se avete un pixel. E sempre se non amate i padelloni, perché se amate i padelloni, lui non è un padellone e quindi dovete rivolgervi ad altro. Io credo di avervi detto veramente tutto, fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete la campanellina e seguite le mie pagine di Instagram e di TikTok dove troverete altri approfondimenti. Ah, mi raccomando, non dimenticate un bel pollicione in su a questo video e facendo così mi fate sapere che l'avete apprezzato. Con questo è veramente tutto, io vi aspetto sotto nei commenti, chiedete pure tutte le informazioni che volete, perché tanto lui resterà al mio polso per un bel po' di tempo, mi sta piacendo. Questo è veramente distinto, pulito, semplice, senza bisogno di... Top! Ciao!